Pietro Ariatta, studente di Ingegneria Gestionale alla Liuc, riceve questa sera il premio Studio e Sport del Panathlon Club La Malpensa. A chi va il tuo grazie? Buonasera a tutti, io ho due grazie ovviamente da dover dire. Il primo va al Panathlon, che è appunto l'associazione che sponsorizza e promuove questa bellissima iniziativa. Ammetto che è da poco tempo che lo conosco, ma devo dire che mi trovo molto allineato sui valori che promuove. In generale appunto il valore formativo che ha lo sport nei giovani, che è un tema che mi tocca molto da vicino, in quanto sono stato istruttore di vela e ho lavorato molto a stretto contatto con i giovani. E ovviamente grazie anche all'Ateneo e alla Liuc, che istituendo questo premio, questa borsa di studio, riconosce un po' il valore e la difficoltà nel gestire due impegni paralleli, quindi la carriera didattica, accademica e quella sportiva.